Grazie a tutti C'è un raffreddore ovunque, anche nel culo c'è un raffreddore Nulla, siamo avanti L'obiettivo è raggiungere la stazione ferroviaria E la la No, sono morti tutti Cioè ma mi ha aperto così? Raga non me lo ricordavo così difficile da governare Quello si è incastrato Ma cos'è? Ma sparisce pure il tank Perché devo andare in questo schifo di coso? Raga ma perché sembra la piazza rossa? Anche nell'altro code c'era E e e Quello non è un nemico Mitragliere rimasti 6 su 6 Aia Oh Raga vi giuro non lo trovo Madonna se t'ho visto Allora Io farei una cosa del tipo Allora Poi è lì Poi Qui C'è un altro qua E ce n'è uno qua E spara Cazzo Spaccalo Ok Questo è un altro Figa se mi ha mancato Ok 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 Ma questo È un uomo Ok Dove sto inciampa Cioè dove sto cadendo Ok ok Muoviti Come sono morti questi Che volo hanno fatto Ok È sparito il tank Si vede l'ombra però Quindi Quindi c'è Mi è sparito anche il cannone Ma Ma non è possibile No zì ti devi Carro ti devi girare Mi è finito tutto il fazzoletto in bocca Ehi Ma è un carro Ma zì ma non Cioè lui lì è andato Così Bam è andato Io Direi che mi muovo Ok C'è un altro Cosa ho detto Ce n'è Carro dove stai andando Oh No non posso andare di qua Allora c'è questo Tornicamento Beh prima te Vai vai È saltato tipo in piedi Cioè è seduto Scusa Questo cara ha dei problemi Comunque Porco Va dove cazzo vuole lui Vai Aia Dai dove spari Dai Ok Ma non devo far saltare sta cosa Non ho capito Tu ero to cazzo Sì ma dove Ma devo tipo sfondare questa cosa Ah Io cazzo Cioè Gli ho sparato con il cannone Non si sono frantumate Oh Dove sono Aia Stanno aprendo Ragazzi ha incastrato il carro Porco Oh esci Come si fa ad uscire Ok sono senza arma Buono Si sono un po' messo male di vita Però eh Avevo 32 kit medici prima Tranquillo Stanza per sta Ti togli Stanza per Non so parlare C'è niente Qui non c'è niente Oh Minchia mi avete fatto spaventare troppo Dava non c'è neanche un kit medico Ecco Morto Dai Strano che non c'è nessuno qua E niente kit medico Vaffanculo Mi sono spaventato Qui ho un colpo e sono morto Cos'è che mi incastro qua Vabbè Non posso andare Io non posso andare Non mi ricordo se è a livello difficile o medio Oh Comparso al tavolo Ah ma sono amici Vaffanculo Oh si Posazcaia E tu chi sei? Eh? Ti è crollato un Oh Oh E chi è? Guarda che lo muore Senti C'è una granata Dammela Prendila Prendi sta granata No E sparisce Lui sparisce Oh No 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 raga no Piano 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 Perché qui sono senza vita Vai Come fai a prendermi? Come fai a prendermi? Ma si sta sparando di là Ma Guarda Immortale Adesso muoio Muoio Eh logico Muoio Iva 9 Iva 9 Iva 9 Lei vada Bravo Vedo che ci siamo capiti Cazzo guardi lì il muro Guarda come mi incurano adesso Dai Tizio Caio vada Dove va? Ma dove fai? Aspetta ma noi eravamo Sto tipo quello lì brutto Angolo 78 gradi Distanza 100 metri Confermare Passo Confermato nuovo bersaglio Punto bravo Angolo 78 gradi Distanza 100 metri Fuoco in arrivo Passo Giusto così Senti che musichetta Non c'è di che Sì sì Salva salva Sì sì